Bentornati, bentornati, bentornati sul canale Vigilia, vigilia di parole, vigilia di Milan-Inter, il derby che si giocherà domani sera, ve lo ricordo, ore 20.45 stadio, Giuseppe Meazza in San Siro, un derby che potrebbe assegnare lo scudetto. Scudetto che sarebbe storico, perché sarebbe il ventesimo della storia dell'Inter e quindi la famigerata seconda stella si tingerebbe di nero-azzurro in barba, chiaramente, a tutti quelli che cianciano di cartone riciclata, umido, indifferenziata, eccetera, eccetera. Sarà, possiamo dire, visto il momento, visto la distanza, visto che ormai sarà uno scudetto storico, da capire il quando, potrebbe essere domani e quindi, per dirla un po' alla frattesi, in zaghi suoi entrerebbero nella storia non solo dell'Inter, ma del calcio italiano, veramente gettando giù il muro a capocciate, appunto, per dirla alla frattesi, perché non è mai successo, non è mai successo che uno scudetto si assegnasse in un derby, men che meno uno scudetto che vale una stella. E quello che questa vigilia ci regala è, da una parte, una situazione di smania, una situazione di voglia di arrivare a questa partita, di arrivare alle 20.45 di domani, di grande carica positiva, non nervosa, positiva, che si rintraccia anche nelle parole di Inzaghi, dall'altra un momento evidentemente negativo e come vi avevo preannunciato io in maniera molto facile, sinceramente non è che servisse chissà quale preparazione e competenza, la partita, l'eliminazione dell'Europa League ha scoperchiato la realtà, quella che qualcuno non voleva vedere o che qualcuno non riusciva a vedere, di un'annata del Milan palesemente insufficiente. Poi qualcuno poteva coprire in qualche modo con, però il giugno del Champions era difficile, e sì la Coppa Italia, però alla fine la Coppa Italia, però poi quando sullo scudetto non ci sei mai stato, fondamentalmente, se non fino alla seconda sosta, famoso Genoa-Milan 0-1, no? Gol viziato dal braccio di Pulisic, dopodiché il Milan è praticamente sparito dalla lotta a scudetto, in Europa si è riducioso in Champions, si è eliminato pure dall'Europa League, in Coppa Italia si è uscito subito, ai quarti, giocando in casa, come l'anno scorso, e beh, anche l'Europa League era veramente un ultimo appiglio in caso di vittoria o comunque di finale, sai, ma parliamo comunque di Europa League, bellissima, più difficile rispetto a tre anni passati con l'introduzione della Conference League, che ha sgrezzato e ha tolto alcune realtà molto più piccole da quella competizione, e beh, infatti già ai quarti il Milan saluta. Scuola come il Milan, che ha vinto il Campionato due anni fa, seconda in classifica in Italia, che continuava comunque a palesarsi in maniera molto altezzosa, no? Ricordiamoci le parole anche di Benaserra, la vigilia del doppio confronto con la Roma, noi non abbiamo nulla da invidiare a Real Madrid e City, e beh, quando ti esponi così, devo dire anche i piori a livello di comunicazione, ho sempre fatto questa distinzione tra comunicazione, atteggiamento e poi lavoro di campo. Ha sicuramente sbagliato anche in campo, ma lì secondo me ci sono degli errori proprio che partono da lontano, anche nella costruzione della Rosa, anche giocatori pompati, che poi alla prova dei fatti non si sono rivelati tali, è inutile che qui ne stiamo ancora a parlare, però a livello di comunicazione ho pure i pioli, sempre stanno molto ai limiti dell'arroganza per certi versi. uno che non sa gestire le situazioni quando stanno andando per un verso, lo ricordo a Bologna, lo ricordo alla Lazio, lo ricordo all'Inter, finché le cose andavano bene, andavano bene, quando le cose cominciano ad andare male si vedeva proprio palpabile il nervosismo, anzi, era pure migliorato da questo punto di vista il Milan, che si era sempre rialzato nei momenti di difficoltà. Diciamo che dall'anno scorso la situazione è andata molto peggiorata, lo scorso il Milan è arrivato quinto, non bisogna dimenticare. Quinto, poi chiaramente con i problemi della Juventus è scalato quarto e quindi è andato in Champions, ma il Milan è arrivato quinto, da campione d'Italia è arrivato quinto. E questa non è mai stata in lotta per lo scudetto, e nelle coppe l'anno scorso la semifinale di fatto non l'ha mai giocata, di Champions. Tanto è vero che negli stessi milanisti si parla di Inter carriera in finale con dei sorteggi facili, chiaramente cancellando volontariamente il Barcellona nei gironi, dimenticando che Porta e Benfica l'anno scorso erano squadre tutt'altro che abbordabili, sicuramente non erano City e Real Madrid, ma io ricordo il Milan arrivare in finale battendo il Monaco in semifinale, o la Juve arrivare in finale battendo il Monaco in semifinale, o il Dortmund e quarti, nessuno si sognava di dire è percorso facile, è un percorso che comunque lo devi affrontare, soprattutto se viene da una realtà che non è della grandeur della Serie A. Inter e Milan sono a livello di Atletico, di Porto, di Benfica, possono tranquillamente uscire, quindi non c'è nulla di scontato. Anzi, l'anno scorso l'Inter di fatto, come sempre giova a ricordare, ha eliminato il doppio confronto, il Barcellona, in quello che fu fattivamente un doppio confronto, perché alla terza e quarta giornata si incrociarono e lì si decideva chi andava avanti e chi andava fuori. E l'Inter vince a San Siro e pareggiò al Camponò, c'è poco da dire, quindi l'Inter il suo bel ottavo barra quarto di finale già lo ebbe ai gironi. E non è da tutti, nello stesso torneo il Milan aveva Salisburgo e Dinamo Zagabria. E dicevo, adesso ovviamente Simone Inzaghi fa da contraltare e si è parlato in questi giorni di un Inzaghi che sta avendo indietro un po' quello che gli era mancato dal giocatore, come ha rivelato il fratello Filippo, anche per un grave problema alla schiena che gli cancellò la possibilità di andare al Milan, ad esempio. E beh, devo dire che Inzaghi, che porta il ventesimo scudetto all'Inter, dopo aver eliminato nell'anno precedente il Milan da una semifinale di Coppa dei Campioni, o Champions League come meglio preferite, è veramente la totale chiusura di un cerchio che parte dal 2002. Noi rendiamoci conto che nel 2002 l'Inter perde uno scudetto, un giorno magari ci farò un long form per ricordare quel campionato, quei momenti, perché poi tutti si focalizzano su Gresco, cancellando chiaramente tutti gli eventi che avevano preceduto quel Lazio-Inter. E uno dei gol di quella giornata viene segnato proprio da Simone Inzaghi, quello del 4-2. Il 4-2 decide di fatto lo scudetto in favore della Juventus, addirittura pure il sorpasso della Roma, in quel 5 maggio 2002, e da lì comincia un po' la storia dell'Inter che non vince mai, delle lacrime dell'Inter che non vincerà mai più lo scudetto, dell'Inter sempre perdente, eccetera. Da quel 2002, da quel gol di Inzaghi, che appunto sancisce l'addio clamoroso per certi versi dello scudetto per i nerazzurri, dopo la beffa del 1998, si arriva allo scudetto della seconda stella con Inzaghi in panchina. E l'anno precedente l'Inter elimina il Milan dalla Champions League guadagnandosi una finale. Poi tutti diranno, qualcuno dirà, però poi hai perso la finale, sì, ma è come Italia-Germania 4-3. Poi l'Italia perde la finale col Brasile, va benissimo, ma la partita votata, la partita storica per il calcio, è Italia-Germania 4-3, una semifinale. Per l'Inter, quell'Inter-Milan vale tantissimo perché chiude un cerchio, chiude un conto aperto vent'anni prima, nel 2003, l'anno dopo il 2002. Quindi come vedete Inzaghi con questo scudetto sta veramente regolando i conti della storia dell'Inter negli ultimi vent'anni e più. Gli ultimi vent'anni e più. Si chiude un enorme cerchio e un tifoso dell'Inter con questo scudetto qui, con queste modalità con il quale sta arrivando, magari battendo addirittura il Milan nel derby, è un tifoso dell'Inter che ha vissuto questi ventidue anni, non può non andare con la memoria a quei momenti e non può non sentire, non avvertire un senso di pace. Un senso di pace, un senso di sana giustizia sportiva. Salud.